la morte dei draghi i neri e i verdi danza dei draghi è il nome altisonante scelto per indicare la furibonda lotta intestina per il possesso del trono di spade del continente occidentale combattuta fra due rami rivali di casa targaryen tra gli anni 129 e 131 dc chiamare danza i tetri turbolenti sanguinosi eventi di quel periodo appare grottescamente inappropriato senza dubbio alcuno il termine trae la propria origine da qualche cantastorie morte dei draghi sarebbe un nome di gran lunga più sensato ma la tradizione lo scorrere del tempo e gran maestro manken hanno impresso a fuoco la dicitura decisamente più poetica nelle pagine della storia pertanto anche noi danzeremo con tutti gli altri dopo la dipartita di re viserys primo targaryen due erano i principali pretendenti al trono di spade sua figlia rhaenyra unica sopravvissuta al primo matrimonio del sovrano e suo figlio egon primo genito avuto dalla seconda moglie nel caos e nella carneficina causati dalla loro rivalità anche altri sedicenti re avrebbero avanzato pretese anche giando come guitti su un paico scenico per un paio di settimane forse addirittura per un ciclo di luna solamente per svanire con la stessa rapidità con la quale erano apparsi la danza spaccò i sette regni in due con lord cavalieri e popolino che decidevano di schierarsi da una parte o dall'altra arrivando a prendere le armi gli uni contro gli altri perfino la stessa casa targaryen si era divisa quando parenti con sanguini e gli stessi figli dei due pretendenti vennero risucchiati a loro volta nello scontro nel corso dei due anni di questa lotta fratricida terribile fu il prezzo di sangue pagato non solo dai grandi lord del continente occidentale ma anche dai loro alfieri cavalieri e sudditi la dinastia targaryen sopravvisse certo ma alla fine del conflitto il suo potere ne risultò ampiamente indebolito e il numero degli ultimi draghi ancora esistenti al mondo si ridusse drammaticamente nella lunga storia dei sette regni la danza fu diversa da qualsiasi altra guerra mai combattuta prima per quanto eserciti abbiano marciato e si siano scontrati in battaglie feroci gran parte dei massacri ebbe luogo sulle acque e soprattutto in aria quando draghi affrontarono altri draghi con zanne artigli e fiamme ma la danza fu una guerra assegnata anche da intrighi assassini e tradimenti una guerra combattuta fra le ombre e lungo le scale a spirale in sale di concilio in cortili di castelli compugnali menzogne e veleni covato a lungo sotto la cenere il conflitto esplose il terzo giorno del terzo ciclo di luna dell'anno 129 dc quando re viseris primo targaryen sofferente e costretto a letto chiuse gli occhi per un breve riposo nella fortezza rossa di approdo del re riposo dal quale non si risvegliò mai più il suo corpo privo di vita venne scoperto da un servitore nell'ora del pipistrello quando il sovrano era solito gustare una coppa di ipocrasso il servitore corse a informare la regina alicent i cui appartamenti si trovavano un piano più in basso rispetto a quelli del re septon eustas scrivendo di questi eventi alcuni anni dopo sottolinea che il servitore recola ferale notizia di persona alla regina e a lei sola evitando quindi di provocare una situazione di allarme generale eustas non crede che si sia trattato di un episodio del tutto fortuito la morte del re era un evento atteso da tempo sostiene ecco il motivo per il quale la regina alicent e la sua corte i cosiddetti verdi si erano premurati di istruire tutte le guardie e tutti i servitori di viseris su come comportarsi qualora la morte fosse sopraggiunta il nano fungo suggerisce uno scenario più sinistro secondo cui la regina alicent avrebbe affrettato la dipartita di re viseris con un pizzico di veleno nell'ipocrasso bisogna comunque rilevare che fungo non si trovava ad approdo del re la notte in cui il sovrano spirò ma piuttosto alla roccia del drago al servizio della principessa raenira la regina alicent si recò immediatamente nella camera da letto del sovrano accompagnata da ser christian cole lord comandante della guardia reale una volta constatato il decesso del re viseris sua grazia diede ordine che la stanza venisse sigillata e posta sotto sorveglianza il servitore che aveva trovato il corpo del re fu preso in custodia in modo da assicurarsi che la notizia non si diffondesse ser christian fece ritorno alla torre delle spade bianche sede della guardia reale e inviò i suoi confratelli a chiamare a raccolta i membri del concilio ristretto del re tutto questo accadeva all'ora del gufo allora come anche adesso la confraternita giurata della guardia reale consisteva di sette cavalieri uomini di comprovata lealtà e di indubbio valore che avevano prestato solenne giuramento di dedicare le loro vite alla difesa della persona del re e di quella dei suoi consanguinei al tempo della morte di viseris solamente cinque delle sette cappe bianche si trovavano ad approdo del re lo stesso ser christian ser arric cargill ser riker thorn ser stefan d'arkling e ser willis fell ser eric cargill fratello gemello di ser arric e ser laurent marbrand con la principessa re nira alla roccia del drago ignoravano che i loro confratelli stavano penetrando armati di notte nella fortezza rossa per strappare ai loro letti i componenti del concilio ristretto il concilio si svolse negli appartamenti della regina nel fortino di megor molte versioni sono giunte fino a noi su ciò che fu detto e compiuto quella notte la più dettagliata e autorevole resta di gran lunga la danza dei draghi un veritiero resoconto di gran maestro mancan nonostante il compendio esaustivo di mancan sia stato redatto soltanto una generazione dopo e attinga a diverse fonti e risorse incluse cronache di maestri diari registri di sovrintendenti e risposte di un sopravvissuto di 147 anni che aveva assistito ai grandi eventi di quel periodo il suo racconto sulle macchinazioni di corte si basa sulla confessione di gran maestro orwell resa prima che costui venisse giustiziato a differenza di fungo e di septoneustas le cui versioni derivano da dicerie pettegolezzi e leggende familiari il gran maestro partecipò effettivamente all'incontro e prese parte alle deliberazioni e decisioni del concilio sebbene occorra riconoscere che al momento in cui le trascrisse orwell fosse estremamente ansioso di mostrarsi in una luce favorevole e assolversi da ogni biasimo per quanto sarebbe invece conseguito il veritiero reso conto di mancan perciò dipinge il suo predecessore in una luce fin troppo favorevole a radunarsi nelle stanze della regina mentre il corpo del re suo consort diventava freddo al piano superiore furono la stessa alicent ser otto hightower di lei padre e primo cavaliere del re ser christian cole lord comandante della guardia reale gran maestro orwell lord lyman bisbury l'ottantenne maestro del conio sir tyland lannister comandante delle navi e fratello del lord di castelgranito larys strong chiamato larys piededuro lord di harrenhal e signore dei sussurri e lord jasper wilde chiamato verga di ferro maestro delle leggi nel suo veritiero reso conto gran maestro mancan definisce tale riunione il concilio verde gran maestro orwell fu il primo a prendere la parola passando in rassegna doveri e procedure d'obbligo al momento della morte di un re septoneustas dovrebbe essere convocato al più presto per impartire gli ultimi riti e pregare per l'anima del re dichiarò un corvo messaggero deve essere immediatamente inviato alla roccia del rago affinché la principessa raenira venga informata della morte del padre e non vorrebbe sua grazia la regina prendersi cura della stessa stesura del messaggio così da attenuare la gravità del momento offrendo parole di condoglianze poiché inoltre la morte di un re viene sempre annunciata facendo suonare le campane qualcuno dovrebbe occuparsi di ciò infine naturalmente dobbiamo dare inizio ai preparativi per l'incoronazione della regina raenira tutto questo lo interruppe serotto hightower aspetterà fino a quando il problema della successione non sarà risolto quale primo cavaliere del re egli aveva l'autorità di parlare a nome del re aveva perfino il diritto di essere assiso sul trono di spade in sua assenza viseris gli aveva concesso l'autorità di governare sui sette regni fino a quando un nuovo re non fosse stato incoronato quella autorità sarebbe rimasta in essere fino a quando la nostra nuova regina sarà stata incoronata affermò qualcuno nella versione di gran maestro mancan furono parole di orwell espresse a voce bassa non più di un bisbiglio ma fungo e septoneustas insistono che a parlare sia stato lord bisburi in un tono pungente re rimarco la regina alicent per diritto di successione il trono di spade deve passare al primo genito di sua grazia la discussione che seguì si protrasse fin quasi all'alba come gran maestro mancan ci riferisce fungo e septoneustas concordano secondo i loro racconti solo bisburi avrebbe parlato a nome della principessa raenira l'anziano maestro del conio il quale aveva servito re viseris per l'intera durata del suo regno e prima di lui suo nonno geris il vecchio re ricordò al concilio che raenira non solo era la maggiore in età ma anche che aveva più sangue targaryen di tutti gli altri suoi fratelli era lei che il defunto sovrano aveva scelto a succedergli rifiutandosi peraltro di modificare la linea di successione nonostante le suppliche della regina alicent e dei suoi verdi inoltre nell'anno 105 dc erano centinaia i lord e i cavalieri proprietari terrieri che avevano dichiarato obbedienza alla principessa giurando solennemente di difendere i suoi diritti la versione di gran maestro orwell differisce soltanto perché gli attribuisce molti di questi argomenti alla propria bocca anziché a bisburi ma gli eventi successivi suggeriscono altrimenti come vedremo queste parole tuttavia andarono a cozzare contro orecchie sorde sir thailand sottolineò come molti dei lord che avevano giurato di difendere la successione della principessa raenira fossero morti da lungo tempo sono ormai passati 24 anni affermò da parte mia non ho prestato alcun giuramento ero solo un bambino all'epoca verga di ferro maestro delle leggi citò il gran concilio del 101 e la scelta dal vecchio re a favore di bellor e non di raenis nell'anno 92 dopodiché disquisì a lungo diegono il conquistatore delle sue sorelle della ben nota tradizione andala secondo la quale i diritti di un figlio maschio di sangue reale vengono comunque prima dei diritti delle figlie femmine ser otto ricordò all'intero concilio ristretto che il marito di raenira era niente meno che il principe daemon sappiamo tutti di quale risma quel personaggio non facciamoci illusioni dovesse mai raenira sedersi sul trono di spade sarà il lord del fondo delle pulci a governarci un re consorte tanto crudele e spietato quanto lo fu megor e la prima testa sul ceppo del boia sarebbe la mia di questo non dubito affatto ma la testa della vostra regina mia figlia seguirebbe a breve nemmeno i miei figli verrebbero rispermiati gli fece ecco la regina alicent egon e i suoi fratelli sono veri figli del re con una ben più valida pretesa al trono che non quella della covata di bastardi prodotta da raenira daemon troverà un pretesto qualsiasi per condannarli a morte tutti quanti perfino elena e i suoi piccini uno di questi strong ha strappato un occhio a daemon non dimenticatelo mai era un ragazzo aie ma il ragazzo rimane pur sempre il padre dell'uomo e tutti i bastardi sono per loro stessa natura esseri mostruosi venne il turno di ser criston cole dovesse la principessa salire al trono ricordo loro a regnare dopo di lei sarebbe jaccaris velarion i sette dei salvino questo reame se dovessimo insediare un bastardo sul trono di spade dopodiché ser criston procedette a parlare delle turpi inclinazioni di raenira e dell'infamia del di lei marito ridurrebbero la fortezza rossa a un po stribolo nessuna figlia sarebbe più al sicuro né nessuna moglie lo stesso vale per i fanciulli sappiamo bene che cosa era lenor se anche lord larry strong abbia preso la parola nel corso del contenzioso non ne viene fatta menzione il che però non sarebbe insolito per quanto dotato se necessario di una lingua velenosa il signore dei sussurri era avaro di parole quanto un usuraio intento a contare il proprio conio piuttosto che parlare lord larry preferiva ascoltare se davvero compiremo questo atto gran maestro orwell mise in guardia il concilio secondo il veritiero resoconto esso condurrà di certo a una guerra la principessa non si farà docilmente da parte e lei possiede dei draghi ma possiede anche degli amici dichiarò lord bisburi uomini d'onore che non dimenticheranno i giuramenti da loro stessi prestati a rhaenyra e a suo padre io sono vecchio certo ma non al punto di rimanere quietamente seduto mentre gente come voi complotta per strapparle la corona a quel punto l'anziano lord si alzò per lasciare la sala quanto a ciò che avvenne dopo le nostre fonti divergono gran maestro orwell narra che lord bisburi sarebbe stato agguantato sulla soglia per ordine di ser otto hightower e gettato nelle segrete confinato in una cella buia sarebbe poi morto di freddo in attesa di processo septoneustas ci racconta altrimenti secondo la sua versione ser criston cole lo avrebbe costretto con la forza a sedersi di nuovo sul suo scranno e gli avrebbe tagliato la golla con un pugnale anche fungo in colpa ser criston della morte di sua signoria ma secondo la sua versione cole avrebbe agguantato il vecchio per il retro del colletto e lo avrebbe scaraventato fuori da una finestra a morire impalato sulle punte di ferro nel fossato asciutto sottostante tutte e tre le cronache concordano però su un particolare il primo sangue versato durante la dei draghi sarebbe stato quello di lord lyman bisburi maestro del conio e lord tesoriere dei sette regni dopo la morte violenta di lord bisburi non si udì nessun'altra voce di dissenso il concilio ristretto trascorse il resto della notte mettendo a punto piani per l'incoronazione del nuovo re la qualcosa doveva avvenire in fretta tutti furono d'accordo e compilando liste di possibili alleati e di ipotetici nemici nel caso la principessa rhaenyra avesse rifiutato di accettare l'ascesa di re egon con la principessa confinata alla roccia del drago e per di più in procinto di partorire i verdi della regina alicent non intendevano vanificare quel vantaggio quanto più a lungo rhaenyra fosse rimasta all'oscuro della morte del re suo padre tanto più lentamente avrebbe reagito e chissà la puttana potrebbe anche morire di parto si dice che abbia fermato la regina alicent in base alla testimonianza di fungo quella notte nessun corvo messaggero prese il volo dalla fortezza rossa nessuna campana suonò i servitori al corrente della morte del re furono rinchiusi nelle segrete a ser criston cole venne affidato il compito di prendere in custodia i neri presenti a corte quei lord e quei cavalieri che potevano essere inclini a schierarsi a favore della principessa re in ira che non venga usata loro violenza alcuna a meno che essi non oppongano resistenza comandò serotto hightower tutti coloro i quali compiranno atto di sottomissione giureranno fedeltà a re egon non subiranno da parte nostra alcun male e quelli che invece non lo faranno chiese gran maestro orwell sono traditori sentenziò verga di ferro per cui dovranno morire come spetta ai traditori a quel punto per la prima e unica volta parlò lord larry strong signore dei sussurri che quindi si sia noi innanzitutto a prestare giuramento dichiarò estraendo il pugnale a meno che fra di noi non si annidino altri traditori brandendo il suo pugnale piede duro si passò il filo della lama sul palmo della mano un giuramento di sangue che unisca tutti noi con fratelli fino alla morte così ciascuno dei cospiratori scavò con l'acciaio un solco nella propria mano quindi le serrarono la mano dell'uno in quella dell'altro suggellando la loro confraternita l'unica esentata dal giuramento fu la regina alicent in quanto donna l'alba già vampava su approdo del re quando la regina alicent inviò la guardia reale a prendere i suoi figli egon e emon per condurli al cospetto del concilio il principe d'aeron il più giovane e gentile dei suoi figli si trovava a vecchia città a prestare servizio come scudiero di lord hightower il principe emond con un solo occhio diciannovenne fu trovato nell'armeria intento a indossare maglia di ferro e armatura in vista del suo addestramento quotidiano nel cortile del castello e egon il nuovo re chiese a sir willis fell oppure dovremmo inchinarci a baciare la fica della vecchia baldracca la principessa elena stava facendo colazione con i suoi di figli quando la guardia reale si presentò a lei ma non appena le venne chiesto dove si trovasse il principe egon suo fratello nonché consorte e la si sarebbe limitata a rispondere non nel mio letto di questo potete stare certi in ogni caso ritenetevi pure liberi di frugare sotto le coperte il principe egon era dedito ai suoi bagordi afferma mancan nel suo veritiero resoconto tenendosi sul vago secondo la testimonianza di fungo sir christian cole avrebbe trovato il futuro re ubriaco e nudo in una fossa da combattimento al fondo delle pulci dove due tagliagole quei denti affilati si stavano azzannando e facendo a pezzi per il suo divertimento mentre una bambina che non aveva più di 12 anni dava piacere al suo membro con la bocca derubrichiamo comunque tale sozzo scenario al solito fungo e consideriamo invece le parole di septoneustas per quanto il buon septone stesso ammetta che il principe egon sia stato trovato con un amante insiste che la ragazza fosse la figlia di un ricco mercante e per di più assai vezzeggiata e aggiunge che sulle prime si sarebbe rifiutato di prendere parte alle macchinazioni della madre mia sorella è l'erede non io avrebbe affermato secondo quanto riportato da septoneustas che genere di fratello si impossessa del diritto ereditario della propria sorella soltanto dopo che sir christian cole lo ebbe convinto del fatto che sua sorella nel momento in cui si fosse posta in capo la corona lo avrebbe certamente messo a morte assieme a tutti i suoi fratelli egon esitò fino a quando anche un solo targaryen sarà in vita nessuno strong potrà mai neppure sperare di sedere sul trono di spade insistette cole se vuole che i suoi bastardi regnino dopo di lei rhaenyra non ha scelta deve avere le vostre teste fu questa argomentazione e solamente questa a indurre egon ad accettare la corona che il concilio ristretto gli stava offrendo ribadisce il nostro gentile septon mentre i cavalieri della guardia reale cercavano i figli della regina alicent altri messaggeri convocarono il comandante della guardia cittadina e i suoi capitani che erano sette ciascuno preposto a una porta della città alla fortezza rossa interrogati cinque furono giudicati simpatizzanti per la causa di egon gli altri due insieme al loro comandante furono ritenuti inaffidabili e si ritrovarono in ser luther largent il più temibile dei cinque leali fu nominato nuovo comandante delle cappe dorate un uomo taurino alto più di due metri si raccontava che una volta avesse accoppato un cavallo da guerra con un solo pugno ma dal momento che ser otto era comunque un uomo prudente si premurò di nominare il suo stesso figlio ser guenny hightower fratello della regina secondo in comando dopo largent istruendolo affinché tenesse d'occhio ser luther semmai avesse mostrato il minimo segnale di slealtà ser tyland lannister venne nominato maestro del conio al posto del defunto bisburi la sua prima mossa ufficiale fu sequestrare il tesoro reale l'oro della corona venne suddiviso in quattro parti una parte venne affidata in amministrazione fiduciaria alla banca di ferro di bravos un'altra inviata sotto pesante scorta a castel granito una terza vecchia città quanto rimaneva sarebbe stato utilizzato per corruzione donazioni e per ingaggiare mercenari se ciò si fosse rivelato necessario a sostituire ser tyland quale comandante delle navi ser otto guardò alle isole di ferro inviando un corvo messaggero a dalton gray joy la piovra rossa il temerario e sanguinario sedicenne lord predone di pike delle isole di ferro a cui offrì in cambio della sua fedeltà sia l'ammiragliato sia uno scranno nel concilio un giorno passò seguito da un altro nessun septum nessuna sorella del silenzio vennero convocati agli alloggi dove re viseris ormai gonfio e in putrefazione continuava a giacere nessuna campana suonò altri corvi spiccarono il volo ma non verso la roccia del drago per contro essi viaggiarono in direzione di vecchia città castel granito delta delle acque e alto giardino viaggiarono anche verso molti altri lord e cavalieri che la regina alicent supponeva potessero allearsi con suo figlio furono recuperati ed esaminati gli annali del gran concilio del 101 dc individuando quali lord si fossero espressi all'epoca e a favore di viseris e quali invece a favore di renis laena o lenor i lord in consesso si erano schierati per il pretendente maschio nella misura di 20 a 1 ma c'era chi dissentiva e se questa nuova situazione fosse degenerata in una guerra quasi certamente quelle stesse casate si sarebbero schierate a favore di re in ira la principessa avrebbe avuto dalla sua il serpente di mare e le sue flotte valutò serotto e verosimilmente anche altri lord delle coste orientali lord bar amon messey celtigar e crab quasi di sicuro e forse addirittura lo stesso stella della sera di tart tutti costoro tranne i velarion rappresentavano comunque forze secondarie motivo di maggiore preoccupazione costituivano invece gli uomini del nord al concilio tenuto a harrenhal grande inverno si era espressa per renis lo stesso avevano fatto i lord alfieri degli stark dusting di barrowton e menderly di portobianco della casa harren era bene non fidarsi in quel periodo nido dell'aquila era dominato da una donna lady jenny la vergine della valle i cui stessi diritti a regnare a fronte dell'esautorazione della principessa rhaenyra sarebbero stati messi in discussione il pericolo più grande però rimaneva capo tempesta da sempre casa baratheon era una forte sostenitrice delle pretese della principessa renis e dei suoi figli per quanto l'anziano lord boremon fosse trapassato il figlio borros era addirittura più bellicoso del padre e i lord minori della tempesta lo avrebbero di sicuro seguito ovunque e comunque lui li avesse guidati ecco perché dobbiamo assicurarci che egli li guidi fino al nostro re dichiarò la regina alicent dopo di che mandò a chiamare il suo secondo genito per cui non fu un corvo messaggero a spiccare il volo per capo tempesta quel giorno fu bensì bagar il più anziano e il più grande dei draghi del continente occidentale a cavalcarlo il principe emon targaryen uno zaffiro a riempire la capitale orbitale vuota la tua missione è ottenere la mano di una delle figlie di lord baratheon gli disse serotto suo nonno prima che lui partisse in volo ne ha quattro e una vale l'altra tu conquistala sposala e lord borros schiererà le sue terre della tempesta al fianco di tuo fortello fallisci e non fallirò tagliò corto il principe emond egon avrà capo tempesta e io avrò questa fanciulla quando il principe em si congedò il tanfo di morte emanato dalla camera da letto del re ormai si stava diffondendo per l'intero fortino di megor favorendo il dilagare a corte e per tutto il castello di una quantità di voci e dicerie insensate le segrete nei sotterranei della fortezza rossa avevano inghiottito così tanti uomini sospettati di infedeltà al punto da spingere perfino l'alto septum a porsi interrogativi riguardo a tutte quelle sparizioni dalla sua sede del tempio stellato di vecchia città il sacerdote inviò un messaggio in cui chiedeva della sorte di alcuni degli scomparsi ser otto e tower forse il primo cavaliere più metodico in assoluto voleva più tempo per i preparativi ma la regina alicent era consapevole di come non fosse possibile un'ulteriore dilazione lo stesso principe egon stava cominciando a non gradire affatto tutta quella segretezza quindi sono o non sono il re domandò a confronto diretto con la madre se lo sono allora incoronatemi le campane iniziarono a suonare il decimo giorno dal terzo ciclo di luna del 129 dc i loro rintocchi segnavano la conclusione di un regno alla fine a gran maestro orwell fu concesso di far spiccare il volo ai suoi corvi a centinaia gli uccelli neri diffusero la notizia della successione di egon fino agli angoli più remoti del reame dopodiché venne il turno del sorelle del silenzio che prepararono il corpo del defunto re per il drogo uomini a cavallo di destriari lividi percorsero le strade di approdo del re e annunciarono gridando re viseris è morto lunga vita re egon alla notizia alcuni piansero scrive mancan altri si rallegrarono ma la maggior parte del popolino si limitò ad osservare in silenzio cauto e confuso e di quando in quando si udiva anche gridare lunga vita la nostra regina al contempo preparativi per l'incoronazione si stavano compiendo in tutta fretta come sito venne scelta la fossa del drago sotto la sua immane cupola si trovavano panche di pietra in numero sufficiente a ospitare fino a 80.000 persone inoltre le spesse mura il robusto tetto e i torreggianti portali di bronzo rendevano la fossa agevolmente difendibile qualora dei traditori avessero cercato di interrompere la cerimonia il giorno stabilito ser criston cole collocò la corona di ferro e rubini appartenuta ad egon il conquistatore sul capo del primo genito di re viseris e della regina alicent proclamandolo egon di casa targaryen secondo del suo nome re degli andali dei roinar e dei primi uomini lord dei sette regni e protettore del reame sua madre la regina alicent adorata dal popolo collocò la corona a lei stessa appartenuta sul capo della figlia elena sorella e moglie di egon dopo averla baciata sulle guance la madre si inginocchiò al cospetto della figlia chinò il capo e disse mia regina quanti accorsero per assistere all'incoronazione resta materia controversa gran maestro mancan attingendo da orwell narra che più di centomila popolani si siano stipati nella fossa del drago acclamando così forte da farne tremare le stesse mura mentre fungo sostiene che le panche di pietra fossero mezze vuote con l'alto septum rimasto a vecchia città troppo anziano e cagionevole per affrontare il viaggio fino da prodo del re spettò quindi a septo neustas ungere la fronte del re egon con gli unguenti sacri e benedirlo con i nomi di tutti i sette dei alcuni dei presenti alla cerimonia quelli con lo sguardo più acuto degli altri potrebbero aver notato che solo quattro cappe bianche e non cinque come da protocollo erano schierate in occasione dell'incoronazione del nuovo re egon secondo aveva subito le prime defezioni la notte precedente quando ser stefan darkling della guardia reale si era allontanato di soppiato dalla città assieme al suo scudiero due attendenti e quattro armigeri con il favore delle tenebre si erano dileguati da una delle porte delle scolte raggiungendo poi un'imbarcazione da pesca che li avrebbe condotti fino alla roccia del drago i cavalieri recavano con sé una corona rubata una striscia d'oro giallo con incastonate sette gemme ciascuna di diverso colore era la corona indossata da re viseris e prima di lui da geris il vecchio re quando a onore del suo stesso nome il principe egon aveva optato per la corona di ferro e rubini del suo leggendario antenato egon il conquistatore la regina alicent aveva dato ordine che la corona di viseris fosse messa al sicuro ma l'attendente al quale la sovrana aveva affidato quella responsabilità l'aveva invece trafugata conclusa l'incoronazione i membri rimasti della guardia reale scortarono a egon al suo destriero una splendida creatura ricoperta di scintillanti scaglie dorate e dalle membrane alari color rosa pallido sole di fuoco fu il nome dato a questo drago dell'alba d'oro gran maestro mancan ci racconta che per due volte il nuovo sovrano volò in circolo sopra la città prima di tornare a terra all'interno delle mura della fortezza rossa ser haric cargill accompagnò sua grazia fino alla sala del trono illuminata da torce dove egon secondo sotto gli sguardi di un migliaio tra lord e cavalieri salì i gradini che conducevano al trono di spade grida di giubilo e che giarono nella sala nessun grido di giubilo per contro si udiva alla roccia del drago dove invece risuonavano fra le sale e le scale della torre del drago marino urla provenienti dagli appartamenti della regina dove raenira targaryen al suo terzo giorno di doglie spingeva e si contorceva l'infante non sarebbe dovuto arrivare se non dopo un altro ciclo di luna ma le notizie giunte da prodo del re avevano condotto la principessa a una furia violenta che sembrava aver accelerato la nascita come se il bimbo dentro di lei fosse a sua volta furente e stesse lottando per uscire il prima possibile per l'intero travaglio la principessa non aveva mai smesso di lanciare imprecazioni invocando gli dei perché scatenassero la loro collera non soltanto contro i suoi fratelli ma addirittura contro la sua stessa madre la regina alicent ed elencando pure le torture che avrebbe inflitto a tutti loro prima di consegnarli alla morte neppure il bimbo che portava in grembo fu risparmiato ci racconta fungo vieni fuori urlava la principessa artigliando il proprio ventre rigonfio mentre maestro gerardis e la levatrice cercavano di trattenerla mostro mostro vieni fuori e quando non il bimbo ma la bimba alla fine nacque si rivelò effettivamente un mostro una creatura nata morta un groviglio deforme con una specie di voragine nel petto laddove avrebbe dovuto trovarsi il cuore ed una tozza coda di scaglie rettiliane così ce la descrive fungo il nano ci racconta che fu lui a portare quel minuscolo essere nel cortile per bruciarlo il giorno dopo la principessa reenira una volta che il latte di papavero ebbe attenuato il dolore che l'affliggeva annunciò che la bimba nata morta era stata chiamata visenia era la mia unica figlia e loro l'hanno uccisa hanno rubato la mia corona e assassinato mia figlia di tutto questo risponderanno e così la danza ebbe veramente inizio la principessa convocò un suo concilio il concilio nero come il veritiero resoconto definisce tale riunione alla roccia del drago contrapposto al concilio verde di approdo del re fura e nera in persona a presiederlo seduta fra il suo zio e marito il principe demon e il suo fidato consigliere maestro gerardis con loro c'erano i suoi tre figli per quanto nessuno avesse ancora raggiunto l'età adulta già essi aveva 14 anni luke 13 joffrey 11 c'erano anche due cavalieri della guardia reale ser eric cargill gemello di ser arric e ser laurent membrant uomo delle terre occidentali 30 cavalieri un centinaio di balestrieri e 300 uomini armati costituivano il resto della guarnigione della roccia del drago una forza combattente che era sempre stata considerata sufficiente per una fortezza di quella entità tuttavia come strumento di conquista osservò tetramente il principe demon il nostro esercito lascia in qualche modo a desiderare facevano parte del concilio nero anche una decina di altri uomini fra lord minori alfieri e bassalli della roccia del drago fra di essi celtigar di isola della chela staunton di riposo del corvo messi di stone dance e bar emmon di punta accuminata e darkling di duskendale ma il lord più importante pronto a schierare le sue forze a favore della principessa era corlys velarion di driftmark per quanto il serpente di mare fosse ormai in età avanzata amava affermare che lui rimaneva aggrappato alla vita nello stesso modo in cui un marinaio ubriaco si aggrappa al relitto di una nave affondata forse i sette dei hanno voluto preservarmi per quest'ultima battaglia al fianco di lord corlys c'era pure sua moglie la principessa renis 55 anni dal viso affilato e segnato da rughe sottili i capelli neri striati di bianco eppure ancora fiera e impavida come lo era stata a 22 la regina che non fu come la definisce fungo cosa aveva mai viseris che lei invece non avesse un piccolo salsicciotto basta quello per essere un re allora fate regnare fungo il mio salsicciotto è tre volte il suo coloro i quali sedevano nel concilio nero si autodefinivano lealisti ma erano fin troppo consapevoli che re egon secondo li avrebbe bollati come traditori ognuno di loro aveva già ricevuto una convocazione da approdo del re nella quale si imponeva di presentarsi alla fortezza rossa per giurare fedeltà al nuovo sovrano gli eserciti di tutti loro messi assieme non riuscivano a raggiungere neppure la forza numerica dell'armata che gli high tower da soli erano in grado di mandare in campo ma i verdi di egon potevano contare anche su altri vantaggi vecchia città a prodo del re e lannisport erano le più grandi e più ricche città del reame e tutte e tre erano controllate dai verdi ogni singolo simbolo di legittimità apparteneva ad egon egli sedeva sul trono di spade viveva nella fortezza rossa indossava la corona del conquistatore brandiva la spada del conquistatore era stato investito da un septon del credo sotto gli occhi di decine di migliaia di sudditi gran maestro orwell sedeva nei suoi concili ed era stato il lord comandante della guardia reale in persona a porre la corona sul suo regale capo inoltre era maschio fatto che agli occhi di molti lo rendeva re di diritto mentre la sua sorellastra null'altro che un'usurpatrice a fronte di tutto ciò i vantaggi di rhaenyra erano scarsi taluni lord anziani ricordavano ancora i giuramenti da loro prestati quando era stata nominata principessa della roccia del drago ed erede del padre c'era stato un tempo in cui rhaenyra era molto amata sia dalla nobiltà sia dalla gente comune quando tutti la osannavano come delizia del reame molti giovani lord e nobili cavalieri anelavano al suo favore ma quanti di loro avrebbero ancora combattuto per lei adesso che era una donna sposata invecchiata e appesantita da ben sei parti era una domanda alla quale nessuno era in grado di rispondere per quanto il suo fratellastro avesse razziato il tesoro del loro padre la principessa aveva comunque a disposizione la ricchezza di casa belarion e le flotte del serpente di mare le garantivano una netta supremazia sul mare poi il suo consorte il principe daemon la cui risolutezza e durezza erano state dimostrate temprate negli scontri sulle stepstones aveva più esperienza bellica di tutti i loro avversari messi assieme infine elemento cruciale rhaenyra aveva i suoi draghi lo stesso vale per egon rilevò maestro gerardis noi ne abbiamo di più ribatte la principessa renis la regina che non fu che cava i cava draghi da molto più tempo di loro e i nostri draghi eccezion fatta per bagar sono più grossi e più forti qui alla roccia del drago i draghi crescono meglio procedete quindi a elencarli per il concilio re egon aveva il suo sole di fuoco una splendida bestia anche se giovane emond il guercio cavalcava bagar ed era impossibile valutare con esattezza il pericolo rappresentato da quello che era stato il drago niente meno che della regina visenia sogno di fuoco il drago femmina che un tempo aveva portato fra le nubi raena sorella del vecchio re era la cavalcatura della regina elena il drago del principe deron era tessarion ali scure come covalto e artigli cresta e scaglie ventrali vivide come rame lavorato quattro draghi di stazza da combattimento precisò infine renis i figli gemelli della regina elena avevano a loro volta un drago ciascuno ma erano appena nati quanto a melor il figlio più giovane dell'usurpatore tutto quello che possedeva era un uovo contro tutto ciò il principe daemon aveva caraxes e la principessa raenira cyrax entrambe bestie enormi e formidabili soprattutto caraxes era impressionante dopo le stepstones tutt'altro che inesperto di fuoco e sangue tutti e tre i figli che raenira aveva avuto da lenor belarion cavalcavano draghi vermax arrax e tiraxes erano in pieno sviluppo diventando sempre più grossi ogni anno che passava egon il minore primogenito dei due figli generati da raenira con il principe daemon possedeva un giovane drago nube tempestosa sebbene non lo avesse ancora cavalcato viseris suo fratello minore non si separava mai dal suo uovo quanto al drago femmina di raenis meleis la regina rossa si era fatto pigro anche se provocato rimaneva comunque terribile pure le figlie gemelle del principe daemon e di lena belarion avrebbero cavalcato draghi il drago di bella lo snello verde pallido danzatore di luna presto sarebbe stato sufficientemente grosso da portare in groppa la fanciulla e per quanto dall'uovo della sorella rena fosse scaturita una patetica creatura deforme che era morta solo poche ore dopo essere uscita dal guscio cyrax aveva di recente prodotto altre uova una delle quali era stata data proprio a raena si dice che la fanciulla portasse quell'uovo nel letto con sé ogni notte e che pregasse affinché le venisse concesso un drago identico a quello della sorella inoltre altri sei draghi avevano scavato le loro tane nelle fumanti caverne del monte del drago sopra la fortezza c'erano ali d'argento cavalcato un tempo dall'argina lisanne la buona mare infuocato la bestia grigio pallido che era stata l'orgoglio e la passione di ser lenor belarion il venerando vermitor mai più cavalcato dopo la dipartita di regio eris e dietro la montagna crescevano tre draghi selvaggi mai posseduti mai cavalcati da nessun uomo vivo o morto il popolino li chiamava ladro di pecore e spettro grigio il cannibale trovate dei cavalieri in grado di condurre ali d'argento vermitor e mare infuocato a quel punto noi avremo nove draghi contro i quattro diegon domiamo e conduciamo in volo i tre draghi selvaggi e arriveremo a dodici anche senza nube tempestosa osservò la principessa renis ecco come noi vinceremo questa guerra i lord celtigar e staunton si dichiararono d'accordo egon il conquistatore e le sue sorelle avevano dimostrato che né cavalieri né eserciti potevano competere con il fuoco e il sangue celtigar insistette affinché la principessa raggiungesse immediatamente in volo a prodo del re tramutando l'intera città in una distesa di cenere e ossa e quale vantaggio ne trarremmo mio lord gli chiese il serpente di mare noi vogliamo dominare quella città non bruciarla fino all'ultima pietra non arriveremo mai a questo riba di celtigar l'usurpatore non avrà altra scelta se non schierare contro di noi i suoi i draghi ed è certo che i nostri nove annienteranno i suoi quattro ma a quale prezzo domandò la principessa renira lasciate che ve lo ricordi saranno tre dei miei figli a cavalcare tre di quei draghi il che non significa affatto nove contro quattro per qualche tempo io stessa non avrò ancora recuperato abbastanza forza da poter volare e chi mai cavalcherà lì d'argento bermitor e mare infuocato forse tu mio lord davvero non lo ritengo possibile il rapporto di forza è cinque contro quattro e uno dei loro quattro sarà bagar no non abbiamo nessun vantaggio per una volta tanto il principe daemon fu d'accordo con la sua consorte alle stepstones i miei nemici impararono a fuggire a nascondersi quando vedevano le ali di caraxes o udivano il suo ruggito ma loro non avevano draghi non è facile per nessun uomo diventare un uccisore di draghi per contro i draghi possono uccidere altri draghi cosa che è già accaduta ogni maestro che abbia studiato la storia di valyria può confermarlo da parte mia non intendo scagliare i nostri draghi contro quelli dell'usurpatore a meno che io non abbia altra scelta ci sono altri modi per servirsi dei draghi ci sono modi migliori al che il principe illustrò le sue strategie al concilio nero che re nera avesse la sua incoronazione così da contrastare quella di egon in seguito loro avrebbero inviato corvi messaggeri facendo appello ai lord dei sette regni affinché giurassero fedeltà alla loro vera regina è con le parole che dobbiamo combattere questa guerra prima di affrontarla sul campo affermò il principe i lord delle grandi casate erano la chiave di volta della vittoria insistete daemon alfieri e vassalli avrebbero seguito le loro direttive egon l'usurpatore aveva ottenuto l'appoggio dei lannister di castelgranito quanto a lord a tirel di alto giardino non era altro che un ragazzino lamentoso ancora in fasce la cui madre investita del fardello della reggenza avrebbe quasi certamente allineato l'altopiano al volere dei suoi potenti alfieri gli hightower ma il resto dei grandi lord del reame non si era ancora schierato capo tempesta sarà con noi disse la principessa renis lei stessa per parte di madre era di quel sangue e il defunto lord boremon baratheon era sempre stato il più fedele dei suoi amici il principe daemon aveva valide ragioni per sperare che la vergine della valle facesse sì che nido dell'aquila si unisse alla loro causa di sicuro considerò inoltre il principe egon l'usurpatore avrebbe cercato di ottenere l'assenso dei pike sui mari le isole di ferro erano le uniche in grado di competere con la potenza di casa belarion ma gli uomini di ferro erano notoriamente inaffidabili delton gray joy adorava il sangue e la battaglia forse convincerlo a sostenere la principessa non sarebbe stato poi così arduo il nord era troppo lontano per rappresentare un fattore significativo nello scontro che stava per iniziare giudicò il concilio nel tempo che gli stark avrebbero impiegato a radunare i loro alfieri e a marciare verso sud la guerra poteva essere già finita il che lasciava fuori soltanto il lord dei fiumi litigiosi e dominati almeno nominalmente da casa tulli di delta delle acque noi abbiamo degli amici nelle terre dei fiumi proseguì il principe daemon per quanto non tutti loro abbiano ancora usato rivelare da che parte intendano schierarsi è necessario trovare un luogo nel quale essi possano radunarsi un fortilizio sul continente che sia grande a sufficienza da allocare un esercito consistente e che sia pure abbastanza solido da reggere l'assalto di qualsiasi forza l'usurpatore invierà contro di noi mostrò ai lord una mappa e quel luogo è questo harrenhal la decisione venne presa cavalcando caraxes il principe daemon avrebbe guidato l'assalto contro harrenhal la principessa rhaenyra sarebbe rimasta invece alla roccia del drago fino a quando non avesse recuperato le forze la flotta di velarion avrebbe sbaragliato gullet salpando dalla roccia del drago e driftmark per bloccare tutte le navi in ingresso o in uscita da golfo delle acque nere non abbiamo sufficienti forze per prendere d'assalto a prodo del re aggiunse il principe daemon non più di quante ne abbiano i nostri avversari per attaccare la roccia del drago egon però è un ragazzo inesperto e i ragazzi inesperti possono essere provocati con facilità forse potremmo indurlo a compiere un attacco sconsiderato il serpente di mare avrebbe comandato la flotta mentre la principessa rhaenis sarebbe volata al di sopra di essa così da prevenire eventuali attacchi a danno delle navi da parte dei draghi dei loro namici al contempo corvi messaggeri avrebbero spiccato il volo verso delta delle acque nido dell'aquila pike capotempesta richiedendo l'alleanza dei loro lord a quel punto prese la parola giacarys primogenito della regina dovremmo essere noi a portare quei messaggi sui lord i draghi hanno un effetto ben maggiore che non i corvi suo fratello luceres era d'accordo insistendo sul fatto che lui e jacy ormai erano uomini o almeno uomini quanto bastava nostro zio ci chiama spregiativamente strong ma quando i lord ci vedranno sul dorso di un drago capiranno che si tratta di una menzogna solamente i targaryen cavalcano draghi fungo ci racconta che il serpente di mare brontolò a questo proposito anche se sorrise con orgoglio alle parole del giovane perfino il giovane joffrey si schierò offrendosi di cavalcare il suo drago teraxes e di unirsi ai fratelli cosa che rhaenyra proibì joff aveva solo 11 anni jacarys però ne aveva 14 e luceres 13 due ragazzi robusti e avvenenti addestrati all'uso delle armi che avevano servito a lungo come scudieri se andrete lo farete come messaggeri non come cavalieri disse loro la principessa non prenderete parte a nessun combattimento solo dopo che entrambi i ragazzi ebbero prestato solenne giuramento su una copia della stella a sette punte sua grazia finalmente acconsentì a impiegarli quali emissari venne deciso di affidare a jacy fra i due quello maggiore di età il compito più lungo e pericoloso raggiungere in volo nido dell'aquila per trattare con la lady della valle poi porto bianco per convincere lord manderley infine grande inverno per incontrare lord stark la missione di luc sarebbe stata più breve e meno rischiosa volare fino a capotempesta dove ci si aspettava che borros baratheon gli riservasse un caloroso benvenuto il giorno successivo venne eseguita una frettolosa incoronazione l'arrivo di sir stephan d'erklin il quale aveva disertato dalla guardia reale di egon fu occasione di grande gioia la roccia del drago specialmente quando si apprese che lui e i suoi seguaci lealisti volta gabbana gli avrebbe in seguito definiti serotto hightower all'atto di offrire una ricompensa per la loro cattura avevano portato con sé la corona rubata di re geris il conciliatore 300 paia di occhi osservarono il principe daemon targaryen porre sul capo della moglie la corona del vecchio re proclamandola rhaenyra di casa targaryen prima del suo nome regina degli andali dei roinar e dei primi uomini per sé il principe rivendicò il titolo di protettore del reame e rhaenyra nominò il figlio maggiore jack eris principe della roccia del drago ed erede al trono di spade come suo primo atto ufficiale la regina proclamò traditori e ribelli serotto hightower e la regina alicent quanto ai miei fratellastri e alla mia dolce sorella elena dichiarò essi sono stati distolti dalla retta via dal consiglio di uomini malvagi che vengono quindi alla roccia del drago compiano atto di sottomissione implorino il mio perdono e io sarò ben lieta di risparmiare loro la vita e di accoglierli nuovamente nel mio cuore in quanto essi sono sangue del mio sangue e nessun uomo o donna è più maledetto dell'uccisore di consanguinei la notizia dell'incoronazione di rhaenyra raggiunse la fortezza rossa il giorno seguente con estremo disappunto di re egon secondo la mia sorellastra e mio zio sono evidentemente colpevoli di alto tradimento affermò il giovane sovrano voglio che vengano catturati voglio che vengano arrestati e li voglio morti nell'ambito del concilio verde temperamenti più controllati desideravano negoziare la principessa deve prendere coscienza che la sua causa è senza speranza disse gran maestro orwell mai un fratello dovrebbe scendere in guerra contro una sorella mandami da lei a parlamentare affinché noi si possa raggiungere un amichevole accordo egon nemmeno vuole ascoltarlo septo neustas sostiene che sua grazia avrebbe accusato il gran maestro di slealtà minacciando di gettarlo in una cella tenebrosa in compagnia dei suoi amici neri ma quando le due regine la regina alicent sua madre e la regina elena sua moglie si espressero a favore della proposta di orwell il re sia pure con riluttanza ed espressione truce cedette così viaggiando sotto vessilli di pace gran maestro orwell venne inviato oltre il golfo delle acque nere a capo di un seguito che includeva ser arric cargill della guardia reale e ser guaini high tower delle cappe dorate più una falange di scribi e septon e fra costoro vera eustas i termini offerti da sua grazia erano generosi dichiara mancan nel suo veritiero resoconto nel momento in cui la principessa lo avesse riconosciuto come re compiendo quindi atto di obbedienza al cospetto del trono di spade egon secondo le avrebbe confermato il dominio sulla roccia del drago consentendo che alla di lei morte sia il titolo sia l'isola sarebbero passati al figlio jaccheris il secondo genito della principessa luceris sarebbe stato riconosciuto come erede di diritto di driftmark nonché delle terre e dei possedimenti di casa belarion ad egon il minore e a viseris figli di rhaenyra avuti dal principe daemon sarebbero stati assegnati posti di alto livello a corte il primo come scudiero del re il secondo come suo coppiere il perdono reale sarebbe stato inoltre concesso a tutti quei lord e cavalieri che con la principessa avevano cospirato in guisa di traditori contro il loro vero re rhaenyra ascoltò suddette condizioni in un rigoroso silenzio quindi domandò ad orwell se si rammentasse del di lei padre re viseris ma certamente vostra grazia rispose il gran maestro in tal caso allora puoi forse dirci chi egli nominò quale suo erede successore proseguì rhaenyra con la corona in capo voi vostra grazia replicò orwell e rhaenyra annui e concluse con la tua stessa lingua tu quindi ammetti che la tua regina di diritto sono io perciò per quale motivo servi il mio fratellastro l'impostore manca racconta che orwell fornì una risposta lunga ed erudita citando le leggi degli andali e il gran concilio del 101 dc fungo sostiene che abbia balbettato e svuotato la vescica quale che sia la verità la sua risposta non soddisfò la principessa rhaenyra un gran maestro dovrebbe conoscere la legge e servirla disse a orwell tu non sei un gran maestro e arrecchi solo vergogna e disonore alla catena che indossi mentre orwell protestava debolmente i cavalieri di rhaenyra lo privarono della catena del suo ufficio e lo obbligarono a inginocchiarsi intanto la principessa allargiva la catena al suo uomo di fiducia maestro gerardis vero e leale servitore del reame delle sue leggi nel rimandare indietro orwell e gli altri emissari rhaenyra disse va a dire al mio fratellastro che io avrò il mio trono oppure avrò la sua testa molto tempo dopo la conclusione della danza il cantastorie luceon di tart compose una ballata malinconica intitolata addio fratello mio che viene cantata ancora oggi la canzone vorrebbe fare riferimento all'ultimo incontro fra ser eric cargill e il suo gemello ser eric mentre l'ambasciata di orwell saliva sulla nave che l'avrebbe riportata da prodo del re ser eric aveva offerto la sua spada ingiuramento ad egon ser eric a rhaenyra nella canzone ciascun fratello tenta di persuadere l'altro a cambiare schieramento fallendo entrambi in questo intento si scambiano dichiarazioni d'amore si separano sapendo che quando si rivedranno sarà da nemici è possibile che un simile addio sia effettivamente avvenuto quel giorno alla roccia del drago in ogni caso nessuna delle nostre fonti ne fa menzione egon secondo aveva 22 anni rapido all'ira e lento nel perdono il fatto che rhaenyra si fosse rifiutata di accettare il suo dominio lo fece andare su tutte le furie io le offro una pace onorevole e quella puttana mi sputa in faccia rugì di ciò che accadrà da questo momento in avanti la responsabile sarà solo e unicamente lei ciò che accadde in seguito fu la guerra